Signori, benvenuti nella terza puntata della Lucky Block Race Nella Stargon Zombress Questa è la versione Geek Battery Quindi signori, diamo il benvenuto al nostro Max Succhiacazzi Qui Max di vero strozzo Questo è il tuo epiteto, vieni qua sopra E nella casa rosa abbiamo il capo del culo Ma chi ne ha messi i cartelli? Ma non lo so Ciao amici Figuriamoci nemici Signor Giollaccio, bella A cui dovremmo fare complimenti Perché signor Jolly è entrato in Tons Hardware Adesso offri da bene, brutto stronzo E nell'ultima Niente Jolly, adesso che fai il video per denaro Mi rendo conto che hai perso la passione Non li fai più in maniera creativa Il signor Ikimoto, detto il messicano? No signore, signore Jolly non è in casa 1, 2, 3, via Sono per me Oh madonna che si figa di perrello No, 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 no Non è la mamma Non è possibile Non riesco a commentare Commenta Allora, guardiamo I partecipanti sono fermi al secondo lucky block Ma è successo Ma che cosa è? Massa che culo che c'è Aspetta che devo fare qua Ed ecco Max contro gli slime Secchielli Max in vantaggio no, viene ucciso Carbancol Carbancol, witch No Guarda come si salva Sì ma non posso più far niente Che cazzo no Mi dispiace Ma che cazzo di porcaio è Ma guarda i giganti Non ne ho mai visti così tanti Sì ma non è mica possibile Ikimoto Vedi come passo Ho un esercito davanti Si camuffa Ma non è possibile Ma non è possibile Beh però una leader star Utile eh Jolly in vantaggio Ikimoto E poi la giugia abbiamo Vabbè io faccio il flipper tra i cazzo Pichis Pichis Guarda Carb quanti cazzo di creeper c'è al dietro Jolly Arrivederci No 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 Attenzione Ikimoto Para 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 No no porca di questo Muore per i silberfish Che cazzo nooo Non mi guardare più che mi fai spegnere fuori quei cazzo di silberfish c'è un momento da me sono l'ultimo non è possibile attenzione ma chi è questo è il giornalaggio schiva tutti gli ast ha soltato due cuori premi il bottone jolly premi il bottone premi il bottone jolly premi il bottone che cazzo è andato che cazzo sta succedendo ma cos'è tutta sta merda oh perfetto no mi sono bloccato mi sono bloccato mi sto attaccando vabbè ma non è mica possibile ok siete tutti morti no non ancora aspetta un piccolo resettino vai grazie maxi avanti è eccitato all'inizio non quando ero alla fine faccia di merda cosa sta facendo jolly ero incastrato tronzo benissimo vediamo io ho una spada vediamo ikimoto una spada guarda quanto non guardarmi che sennò muoio malamente come prima questi sono silver ma come cazzo si suppone che io vado avanti qua marcus crono di pazienza arrivo 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 saluto di gara ah abbiamo pazienza ma cioè allora dovresti vedere praticamente la mia grave qua sopra ma porca di quella ecco grazie no 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 i ghast i ghast no 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 godo godo jolly al terzo step della mappa ah ovviamente lo scopo non è vincere è andare in creativa che prende per culo l'altri eh però jolly non capisce il senso della mappa jolly la interpreta in maniera creativa no ma dai un blaze nelle lade io non passo più qua ma perché stai rompendo tutte le tue tombe cioè tipo non vuoi più memoria non vuole contare quante volte hai aperto stai lì a destra oh mio dio ma che cazzo oh mio dio ma allora cioè mi spiego nooo guardate guardate qualcosa mi dici che c'era un po' di gas il bello carbanco è che tutti i cazzo di blaze che hai evocato te stanno tutti sulla linea di max quindi mi aspetto bestemmie quando arrivi quindi porco non è potribile ma come si fa a passare non sento più niente non è vero ma vaffa ma che cazzo ahia 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 ma dai ma non è vero ma non è possibile ma dai ma che cazzo è non riesce ma dai ma non riesce a far salto aiuto aiuto ma guarda quanto fuoco c'è qui e non so è come se ti mettessero nella marina britannica e dice questo è il vostro portaeree e super la moto godo godo ah è blaze che nello danno o no si ma l'ho rilevata eh ma che male ma io tipo non posso correre perchè tipo è come si dice non c'ho la fame non c'hai e mangiati un duplo ma cosa cazzo dici non ci vedo più della mia te è una merda devi mangiarti eccola vediamo un jolly in vantaggio vaffa cuore jolly adesso vengo asfaltato però ma io ci puoi io ho avuto un po' più dolce da secolo guarda con il tesoro attenzione abbiamo visto un'infrazione si sono tanto pochi sono tutti quanti della mia linea vaffa culo carmaggio mi sento tanto dio adesso jolly ce la fa jolly ce la fa adesso tocca i gas io so ragazzi jolly ha superato tutti i pericoli quindi o ne troverà di nuovo non è possibile vabbè allora vaffa culo jolly perchè nel senso no 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 che cazzo no no poco scettile lo faccio pure agli altri io dopo voglio la rivista eh no jolly credo di no no esatto no e jolly torna indietro ahahahahahahahhahahahahahahhahahahahah as finché ho sponato gas ma il kimoto dove è arrivato? in messico diciamo ahahahahahahahah ma doccato non è vero ma vediamo a vedere il kimoto un po' che cosa sta facendo io sto fight sono appena morto quindi puoi anche non guardare Io voglio vedere Max che arriva qui e casca dentro le raggiatele e i bled gli fanno un buccani. Ma che cosa? Non è che rompi le cose! Vai bene! E la di bacia dell'immortacci tua non ce ne è? Guarda, i jolly se li sta prendendo tu. Tra l'altro i tuoi 80 mila iscritti fai grosso, eh, merda. Sono 92. Ah, scusi, scusi, devo mettere anche il prefisso da quanto è grosso il tuo ego, non so. Ma le fiamme che fai... Signori, io ho resettato, e c'è il signor Carbankos che se la sta facendo tutta di filata. Bastardo! Mi sei incastrato! Arrivo a soccorso. Anche brutta morte. Ma che ce la faccio, ma che ce la faccio! Carb, questo lo devi aprire! Dove vai? Quale? Non l'ho visto, non l'ho visto. Che culone che c'hai. Questo? Lì, shit! Questo? Questo? Uh, uh, uh! Bedrock, non ce ne è un cazzo. Questo? Ammazza il culo che c'è a Carb. Aspetta. Ok, forse è un meraviglio. Via, 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 via. Non ho qualcosa più potente, non lo rompete i miei cazzo. Signori, scontro incredibile! Gialli supera, Gialli supera, Carbankos è l'ultimo! Ma che cazzo? Io ho della paglia, ho della paglia. Eh, Godo! Ce la fa? Ce la fa? L'ultimo Vergialli! Godo! E vince! Oh, porca! Vince il Vergialli! Come ha vinto, Gialli? Io che ho un bugger, è possibile. È incredibile. E... Secondo, secondo! Al secondo! Al secondo, Garbankos! Ah! Ma perché mi danno delle barrieste il Lucky Block, cazzo? Ma sono immune adesso. Adesso vi ho hoppato, così potete prendere per il culo i vostri compagni. Oh, Ita! Ita Ikimoto! 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 Oh, che cazzo! Vince! Signori! Aia, 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 aia! Andiamo a spizzare tutti la sorte di Max. Max, fa schifo! E moriremo tutti! Moriremo tutti! Ti ho hoppato! Non è vero! Dove è il signor Max in tutto questo? Vabbè, diciamo... Vaffa pure! Lo tippiamo fino a qui, dai! No! Non ci provare, voglio finire questo percorso adesso, è una questione di principio! Sì, 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 finisca, finisca! No, la porto all'ultimo Lucky Block! Boom! Oh, perfetto! Le becca... Il cazzo di esercito evocato è qui tra la chiusura! Le becca tutta merda! Cioè, non è neanche una cosa buona! Boa! Vaggela, vaggela! Ce la farò, cazzo! Slime? Ma che cosa? No, come si sale? Ma è un becchio di slime! Non avrò dei frames utili come un c***o senza il buco! Ma guarda! Oddio, sono morto! Eh! Allora... Lazzo, c'è poca gente sul tuo percorso! Ma pochissima, pochissima! Vai! Ma no, ma che cazzo mi tipi in mezzo alla m***a! Eh, certo! Ma che cazzo vuol dire, Marcus Krohn... Eh... Le fornaci, i dropper... Guarda come ho fatto... Oh, gli enderman! Ah, eh... Sì, proprio... Eh... E anche, cazzo, il concerto di motore... Ed stavo così stretto... Ah, eh... Oh, ah, oh... Eh, cazzo... I creeper! I creeper! No! Ah! Ehi, creep! Tua sorella, no? I creeper! Ah! Ce la fa! Ce la fa! Max! Eh, c'è un problema! Tentiamo! Ne ti dimenticato uno! No! No! Qual è? Ah, ecco... Ah, carattuale, ma... Eh, ecco, stanno qua, guarda! Ah, ecco, stanno qua, guarda! Ah, ecco, stanno qua! Ah, ecco, stanno qua! Ah, ecco, stanno qua!